Se ho un cane o un gatto che soffre di allergia alimentare, una dieta casalinga monoproteica può essermi utile nel risolvere il suo problema? La risposta in generale è sì, per una serie di motivi che la rendono in generale migliore rispetto all'alimentazione industriale, sia secca che umida. Ho iniziato a parlare di questo argomento guardandolo però dal punto di vista dell'alimentazione industriale nel precedente video, che vi lascio qui sopra e che vi invito a vedere se non l'avete visto. Lasciando alla fine con una domanda in sospeso, ma la dieta casalinga può essere migliore rispetto all'alimentazione industriale in corso di queste patologie? E soprattutto perché è migliore rispetto all'alimentazione industriale? È la domanda a cui voglio rispondere in questo video. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guiggi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Quando un cane o un gatto soffre di un'allergia alimentare, attenzione stiamo parlando di allergie e non di intolleranze, in questo caso per vedere la differenza andate a vedere il video dedicato, una dieta casalinga può essere in diversi modi risolutiva. Il motivo potrebbe anche sembrare semplice. Conosco gli ingredienti che metto all'interno della ciotola, ma in realtà questo non è l'unico motivo e ci fa rispondere anche ad una serie di domande. Una delle più interessanti è questa. Ma se il mio cane era allergico al pollo quando mangiava i croccantini al pollo, perché una dieta casalinga che comprende anche il pollo non gli fa mostrare più sintomi allergici? È una domanda molto interessante ed è quello di cui andremo a parlare nello specifico in questo video. Elencando i quattro motivi principali per cui quando avete un cane o un gatto che soffre di allergie alimentare, pensare a una dieta casalinga a cotto o a crudo in linea generale non fa differenza, se in realtà una differenza c'è e la vedremo dopo, può essere una soluzione vincente per evitare i sintomi della sua patologia. Partiamo dal primo motivo, che è il più semplice e probabilmente lo conoscete tutti. Nella dieta casalinga so cosa metto all'interno della ciotola. Una dieta casalinga nella quale sono io a scegliere gli alimenti che metto nella ciotola del cane o del gatto ci permette di ottenere due vantaggi in relazione all'allergia alimentare. Il primo è che conosco gli alimenti che metto e posso soprattutto variarne uno solo. Pensiamo a una dieta casalinga composta da tre ingredienti. Se ho il sospetto che uno dei tre causi l'allergia, posso tranquillamente rimuovere quell'ingrediente, sostituirlo con un altro e vedere se il problema fosse quello. Un vantaggio che sembra banale, ma in realtà quei croccantini non lo posso fare, perché nel momento in cui vado a scegliere un croccantino che ha una diversa fonte proteica rispetto a quello che utilizzavo prima, in realtà sto cambiando la fonte proteica principale, ma sto cambiando anche tutti gli altri ingredienti. Non è un modo di controllare il singolo ingrediente. L'altro vantaggio è la possibilità di mettere pochi ingredienti. Le diete casalinghe pensate per gli animali che hanno delle reazioni avversi al cibo sono formulate dai medici veterinari con pochissimi ingredienti, proprio per cercare di capire se quello specifico ingrediente causa la reazione avversa oppure no. E il fatto di avere pochi ingredienti e di poterli cambiare ci permette di arrivare a una diagnosi, quindi a capire qual era, attraverso la prova di eliminazione, l'alimento che causava l'allergia a quel cane o a quel gatto, e ci consente anche di evitarlo sempre, e quindi di evitare di conseguenza i sintomi che riguardavano quel cane o quel gatto. È un percorso molto più semplice e anche molto più veloce rispetto a quello che si potrebbe fare con un'alimentazione industriale. Ma non voglio dilungarmi molto su questo primo punto perché è il più ovvio e di altri tre sono molto più interessanti. Passiamo al secondo, le proteine specifiche dei singoli alimenti. Nel precedente video, e per questo che vi invito a guardarlo anche se parla di industriale, ho puntato parecchio sulla differenza tra fonte proteica e proteina. La fonte proteica è quell'alimento che ha le proteine come nutriente principale. La proteina è una macromolecola composta da una lunghissima catena di amminoacidi. In altre parole, queste, questa e questa sono fonti proteiche, questa, questa e questa sono proteine. Dove sta la differenza? Nel fatto che una fonte proteica è composta da tante proteine diverse, con strutture diverse, quindi con una capacità di stimolare un'allergia diversa tra loro. Allo stesso tempo ci sono anche alimenti che non sono fonti proteiche, che però contengono delle proteine che sono in grado esse stesse di scatenare un'allergia alimentare. Conoscere tutte le proteine che sono contenute nel singolo pezzo di carne o comunque nella singola fonte proteica non è praticamente possibile, ma è importante sapere che il petto di pollo non contiene una proteina, magari a forma di pollo, ma contiene tante proteine diverse che svolgono nell'organismo del pollo. Quando è vivo, tante funzioni diverse. Alcune di queste il sistema immunitario le riconosce e le attacca, altre invece no, non le riconosce e non le attacca. Questo dal punto di vista pratico può sembrare inutile. Eh, ma se il mio cane mangia un petto di pollo, comunque troverà le proteine che il suo sistema immunitario attacca e quindi cosa me ne importa di conoscere la differenza? La differenza è importante, cerchiamo di capire perché. Le proteine sono quei componenti che danno una struttura diversa ai singoli organi. Se il DNA di tutte le cellule di un pollo è uguale allo stesso, alcune cellule lo esprimeranno in un modo diverso, cioè leggeranno parte di quel DNA per creare alcune proteine, altre parti del corpo leggeranno altre parti del DNA per creare altre proteine. È questo che macroscopicamente fa la differenza tra un fegato, un cuore, una carne e una pelle. È il motivo per cui questi organi appaiono diversi anche semplicemente alla vista. Il fatto che il DNA sia lo stesso in tutte le cellule di tutti gli organi che ho menzionato, ma che questi organi esprimano le proteine in maniera diversa, fa sì che questo animale potrebbe essere allergico a specifiche proteine che si trovano nel fegato ma che non si trovano nel cuore. Facciamo un esempio pratico. Se quelle a sinistra sono le proteine che si trovano nel fegato e quelle a destra sono le proteine che si trovano nel muscolo, ma la proteina gialla, quella che ho disegnato come proteina gialla, è l'allergene, ovvero viene attaccata dal sistema immunitario di quel cane o di quel gatto, nel momento in cui quell'animale mangerà il fegato si scatenerà la reazione allergica, ma nel momento in cui mangerà il muscolo no. Ora, è molto probabile avere animali allergici al pollo in generale che non al fegato di pollo, perché le altre proteine, come si può vedere da questa semplice rappresentazione, sono condivise, sono le stesse. E quindi, anche solo per una questione di probabilità, è molto facile che il sistema immunitario di un animale vada ad attaccare una proteina comune a più parti del corpo, invece che andare ad attaccare quella presente in uno specifico e singolo organo. Tuttavia, non si può escludere che questo succeda, e la distinzione diventa ancora più importante quando non parliamo di solo pollo, ma di specie animali diverse. Ad esempio, un pollo potrebbe condividere alcune delle strutture proteiche con il tacchino, ma altre no, per cui il cane A potrebbe essere allergico a una proteina del pollo, che è condivisa anche con il tacchino, quindi la manifestazione allergica si manifesta in entrambe le specie. Un altro cane, il cane B, potrebbe essere allergico a una proteina che è esclusivamente del pollo, e quindi nel tacchino non si trova, e quel cane non può mangiare il pollo, ma il tacchino lo può mangiare. Attenzione che questo problema non è univoco, quindi da cane a cane la situazione può cambiare, ed è per questo che la dieta casalinga specifica per le allergie del cane e del gatto deve essere modulata in base al singolo cane e al singolo gatto da un medico veterinario. Non in generale, non esiste una dieta standard che va sempre bene per tutti. Le diete tutte uguali, che magari si trovano su internet, anche no. Il terzo vantaggio che possiamo trovare in un'alimentazione casalinga rispetto all'alimentazione industriale è la digeribilità delle proteine. Ne abbiamo parlato in un precedente video, abbiamo parlato nello specifico di digeribilità, quindi se siete interessati andate a vedere quel video. Tuttavia ne riprendo i punti che ci interessano. Una dieta casalinga è più digeribile rispetto a un'alimentazione industriale, le fonti scientifiche sono presenti nell'altro video. Un alimento più digeribile consente di assimilare meglio i nutrienti, ma dal punto di vista delle allergie fa una cosa molto importante. Perché l'allergia si sviluppi? La proteina che il cane e il gatto mangia non deve essere distrutta nello stomaco. Lo stomaco è un organo che, a causa della sua acidità, distrugge le proteine, idrolizza le proteine e le scompone in catene di amminoacidi. Tantomeno un alimento è digeribile, tantomeno questa scomposizione avverrà e quindi ci sarà maggiore possibilità che catene proteiche più lunghe, fino ad arrivare a avere proprie proteine ancora tutte intere, arrivino all'interno dell'intestino. Il sistema immunitario non è in grado di riconoscere proteine che sono troppo piccole e quindi non è in grado di scatenare una reazione allergica. Di questo abbiamo parlato in un altro video, dedicato sempre alle allergie che ho fatto precedentemente, e c'è un limite minimo studiato nell'uomo di 10.000 d'alton sotto il quale il sistema immunitario non riesce a riconoscere una proteina come allergene da attaccare. La maggior digeribilità della dieta casalinga rispetto all'alimentazione industriale consente semplicemente di spezzare di più le proteine, di farle più piccole, e questo riduce la possibilità che il sistema immunitario riesca ad incontrarle, riconoscerle e ad attaccarle come se fossero degli allergeni, per cui in generale fornire una dieta più digeribile è utile rispetto a fornire una dieta meno digeribile per evitare la reazione allergica. Infine, il quarto motivo che è quello che distingue tra l'altro anche tra le alimentazioni a crudo e le alimentazioni a cotto, ed è la temperatura di cottura degli alimenti. Il calore modifica le proteine e modifica la loro struttura proteica, cioè le proteine prima e dopo la cottura non sono più le stesse. Questo è facilmente individuabile cuocendo un pezzo di carne e tanto più la cuociamo, tanto più quell'alimento tende a cambiare, fino a diventare bruciato, che è un'ulteriore modifica, anche se non è più comestibile, delle proteine e degli altri nutrienti che compongono quell'alimento. La temperatura che si raggiunge in cottura, o la temperatura che non si raggiunge se l'alimento è crudo, può fare una differenza nell'alimentazione dei cani e dei gatti che hanno delle allergie alimentari. Un esempio molto evidente della modifica che le temperature fa sulle proteine è il bianco dell'uovo. Il bianco dell'uovo, che è trasparente a temperatura ambiente, nel momento in cui si raggiunge una certa temperatura, inizia a modificarsi e, nello specifico, le proteine hanno una modifica strutturale tale che cambia colore. Il cambiamento di colore dal trasparente dell'albume crudo al bianco dell'albume cotto è dovuto proprio a una modifica proteica causata dalla temperatura, una modifica proteica che, in altri modi, avviene anche in tutti gli altri alimenti. Questa modifica proteica, dal punto di vista microscopico, viene detta denaturazione delle proteine e va a cambiare di fatto la loro natura, la loro struttura generale. Struttura che cambia in base alla temperatura raggiunta, cioè tanto più è alta la temperatura che si raggiunge, e tanto più le modifiche saranno diverse e tante più saranno le proteine che sono interessate da questa modifica. Anche qui facciamo un esempio grafico che ci permette di capire perché c'è una differenza tra un alimento crudo, un alimento cotto a bassa temperatura e un alimento cotto ad alta temperatura. Supponiamo che la temperatura di cottura faccia modificare le proteine che vedete nella parte in alto dell'immagine in quelle che vedete nella parte in basso dell'immagine. Notiamo che a questa temperatura, la temperatura X che abbiamo scelto, abbiamo alcune proteine che subiscono una modifica, altre proteine che invece non la subiscono. Ora, quali sono gli allergeni? Beh, gli allergeni potrebbero essere quelli che non subiscono delle modifiche, ad esempio la proteina di colore verde, oppure potrebbero essere gli allergeni che subiscono delle modifiche, per esempio quella di colore viola. È chiaro che se il mio cane o il mio gatto è allergico alla proteina di colore verde, quel cane o quel gatto non dovrà più mangiare quell'alimento, indipendentemente dal fatto che sia crudo, sia cotto, sia molto cotto, non conta più nulla. Ma se quel cane o quel gatto è allergico alla proteina di colore arancione, quando è cotta, quindi quando ha la struttura della proteina cotta, nel momento in cui mangerà quella stessa carne, ma cruda, non scatenerà la reazione allergica. Come ci ricorda questa fonte scientifica, si tratta di una modifica alla struttura tridimensionale delle proteine che le porta ad essere riconosciute o non riconosciute dal sistema immunitario. Come dicevamo prima, la temperatura di cottura influenza queste modifiche proteiche, ovvero i croccantini che sono cotti tendenzialmente a temperature più alte di quelle che si raggiungono, ad esempio, in bollitura della carne o del pesce, potrebbero scatenare reazioni allergiche, magari il pollo presente all'interno dei croccantini, ma lo stesso alimento, magari il pollo lesso, lessato in acqua, potrebbe non scatenare la stessa reazione. Quindi la dicotomia non è solamente crudo-cotto, ma è anche in base alla temperatura che si raggiunge in cottura. In ultimo voglio far notare anche una cosa, il processo è possibile trovarlo anche al contrario. Sono rari, ma ci sono anche dei cani e dei gatti che manifestano delle allergie alimentari all'alimento crudo, perché magari per loro l'allergene è quella proteina da cruda prima della modifica, che però nel momento in cui viene cotta, quindi viene fatto il passaggio al calore, modifica la sua struttura e il loro sistema immunitario non la riconosce più come allergene e di conseguenza questi animali stanno bene con l'alimentazione a cotto, ma stanno male con l'alimentazione a crudo. Perché di solito non succede? Perché l'allergia si scatena in base all'alimentazione che quel cane o quel gatto ha mangiato nel periodo precedente nella vita. E siccome la maggior parte dei cani e dei gatti che sono allergici ha mangiato i croccantini o gli alimenti umidi, per cui alimenti comunque cotti, è molto più facile che abbiano sviluppato un'allergia a una proteina modificata dal calore rispetto a una proteina degli alimenti crudi. Tuttavia, e lo noto nella mia attività professionale, a volte arrivano dei cani o dei gatti che hanno dei problemi con il crudo dopo aver mangiato sempre alimentazione a crudo, perché è un processo che può avvenire in entrambe le direzioni. Questi erano i quattro motivi principali per cui un'alimentazione casalinga può essere preferibile a un'alimentazione industriale. Ma in chiusura del video, giusto per non lasciare nulla al caso, voglio chiudere con questa domanda. Voglio fare un po' l'avvocato del diavolo. Ma ci sono delle situazioni in cui un'alimentazione industriale può essere migliore rispetto a un'alimentazione casalinga nonostante quello che abbiamo appena detto per un cane o per un gatto allergico? Beh, la risposta è sì, sono motivazioni rare, ma in alcuni casi è preferibile continuare con un'alimentazione industriale rispetto al passare ad un'alimentazione casalinga. Io ne ho individuate due. La prima, banale, quando l'animale non accetta la dieta casalinga. Con il cane è rarissimo che questo succeda, però con il gatto succede, e succede anche abbastanza spesso, che questi animali non vogliono la dieta casalinga, non l'accettano. In questi casi insistere e cercare di fargli mangiare la dieta casalinga, lasciandoli senza mangiare anche per diversi giorni, specialmente i gatti che hanno il problema della lipidose epatica, non è consigliabile, per cui nel caso in cui il gatto proprio la dieta casalinga non la volesse, è comunque preferibile, ne va al rischio della sua vita, continuare con l'alimentazione industriale e sicuramente continuare con i tentativi per fargli accettare l'alimentazione casalinga, ma con i gatti il percorso può essere anche molto molto lungo e in questo frattempo l'alimentazione industriale, monoproteca o ancor mai diodrolizzata è una buona soluzione. Se scegliete questa soluzione perché il gatto non accetta l'alimentazione casalinga, comunque sia scegliete un'alimentazione di tipo umido rispetto a un'alimentazione di tipo secco. L'alimentazione umida è in generale più digeribile e qui torniamo ad uno dei punti di cui abbiamo parlato in questo video, la digeribilità degli alimenti. Il secondo motivo per cui può essere preferibile rimanere all'alimentazione industriale è la possibilità di avere a disposizione degli alimenti industriali idrolizzati che nell'alimentazione casalinga in generale non si possono avere. Per sapere cosa sono gli alimenti idrolizzati, guardate questo video perché ne ho parlato in modo specifico. Comunque sia non sono alimenti monoproteici, sono alimenti diversi e specifici per le allergie alimentari che consentono di fare sostanzialmente una cosa, eliminare in una volta sola tutte le fonti proteiche di origine animale. Il fatto che si eliminino tutte le fonti proteiche di origine animale non vuol dire che si eliminano tutte le proteine dall'alimento, le proteine nell'alimento ci rimangono, specialmente quelle di origine vegetale, per cui sempre attenzione anche a scegliere un alimento idrolizzato, fatevi consigliare dal vostro veterinario. Tuttavia eliminare in un solcolpo tutte le proteine di origine animale fa sì che il cane o il gatto trovi un miglioramento nel giro di pochi giorni, poche settimane rispetto al precedente alimento. E ci permette quantomeno di capire che il problema era una fonte proteica di origine animale. Non è un'alimentazione, e l'ho già ricordato nei precedenti video, che va seguita a vita. Si segue solo il tempo necessario per capire se effettivamente il problema ci sia o non ci sia. Successivamente poi bisogna continuare con le prove per inserire alimenti. In generale, l'abbiamo visto in questo video, è un medio casalinghe che non industriale, ma comunque sia un alimento diverso per cercare di evitare la reazione avversa al cibo, ma allo stesso tempo per non fornire tutta la vita lo stesso alimento. Una cosa che abbiamo visto essere delle tere. Ne abbiamo parlato nel video dedicato agli idrolizzati. Per cui, per concludere, abbiamo visto che ci sono diversi vantaggi nell'utilizzo di un'alimentazione casalinga rispetto a un'alimentazione industriale, quando un cane o un gatto soffre di allergie alimentari. Il mio consiglio è comunque quello di parlare dell'argomento con il vostro medico veterinario. Per cercare di trovare una soluzione alla vostra specifica situazione, quello che mi interessa è di farvi conoscere anche questa possibilità e farvi conoscere soprattutto i vantaggi che può avere un'alimentazione casalinga rispetto a un'alimentazione industriale in questa situazione. Voi che cosa ne pensate? Avete mai preso in considerazione la possibilità di passare un'alimentazione casalinga se il vostro cane soffre di allergie alimentari? Conoscevate queste informazioni e queste differenze che ci possono essere tra un'alimentazione casalinga e un'alimentazione industriale in queste specifiche patologie? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube oppure potete farmelo sapere nella mia pagina Facebook Valerio Guiggi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.